Buongiorno. Allora, Anna Scania ha avuto un'esperienza personale, diciamo un vis-à-vis con Covid-19. Intanto le chiedo come sta e come ha affrontato questa esperienza che è stata anche abbastanza lunga? È stata decisamente lunga perché è durata 31 giorni. Io finalmente sto bene. Per fortuna non sono dovuta andare in ospedale, quindi un po' di timore perché ovviamente il brutto di questo virus è che lo si deve affrontare nel più totale isolamento per evitare di contagiare gli altri, però per fortuna è finita e da qualche giorno sono tornata al lavoro. Come è stata curata a casa? Tachipirina, poi gli ultimi giorni erano cambiate, credo, le indicazioni e quindi un antibiotico. Adesso è dura anche perché lascia una traccia comunque di stanchezza, di difficile ripresa. Grande stanchezza. Ecco, di stanchezza. Quando potrà, diciamo così, dal 4 maggio in poi potrà tornare all'esterno? No, no, io sono già rientrata al ministero due giorni fa e ovviamente diciamo a ritmi lievemente ridotti perché le indicazioni dei medici sono queste, di non stancarsi troppo, però dopo il doppio tampone negativo si può uscire e nel mio caso si può tornare al lavoro, diciamo, si può uscire relativamente, viste le indicazioni che abbiamo dato. Però io devo farle subito.